buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 18 maggio 2022 e bentrovati alla segna stampa di fano tv iniziamo la giornata dando un'occhiata questa mattina i giornali ci sono veramente tante notizie purtroppo anche di nera di cronaca e vedremo poi che cosa è accaduto nella giornata di ieri oggi si festeggia san giovanni papa eccolo qui nella grafica e vediamo questo tondo che si trova nella basilica di san paolo fuori le mura a roma dove si trovano tutte le volti anche qualcuno ovviamente immaginario dei papi che si sono succeduti da san pietro in poi san giovanni papa giovanni primo fu papa nel 523 e cadde vittima della rivalità tra teodorico re dei goti che regnava a ravenna e l'imperatore d'oriente giustino primo a causa della eresia degli ariani ovviamente teodorico voleva delle concessioni da parte dell'imperatore cosa che non avvenne compì il papa giovanni una memorabile un memorabile viaggio a costantinopoli che fu l'evento più importante del suo pontificato ma ovviamente anche la sua vita religiosa lo elesse poi come come santo lo nominò poi come come santo come beato per quanto riguarda il culto della chiesa e veniamo ora alle previsioni del tempo vediamo che il tempo ancora si mantiene buono su tutta la regione con qualche velatura però in più rispetto ai giorni passati qualche numbe in più al mattino sulle alte marche poi migliora ovunque con residue e nubi sui sibellini le temperature varieranno dai 18 gradi di minima ai 23 ma anche probabilmente qualche grado in più nelle ore più calde della giornata dicevo 23 gradi e i venti ispireranno in direzione est nord est e le temperature dunque si mantengono stabili su tutta la regione apriamo il giornale oggi a partire dal resto del carlino vediamo qui l'apertura e si parla del cantiere della wider la grande azienda della cantieristica che ha progettato di realizzare un grande cantiere alto 24 metri nella zona della cantieristica del porto di fano una previsione urbanistica che ha sollevato dei pareri contrari e oggi il suo parere contrario lo esprimano i club nautici del club dei diportisti che operano nel porto di fano scalò e cantiere wider la battaglia navale intitola il resto del carlino associazioni nautiche contro il comune ogni porto deve avere lo scivolo pubblico per i vari e quel progetto è troppo alto oscura il faro questo lo ha dichiarato rolando bocchini che è presidente della lega navale di fano scalò dall'agio pubblico progetto wider il cantiere alto 24 metri per la costruzione di mega yacht addirittura per una lunghezza di 80 metri è un'estate bollente quella che si preannuncia per il porto di fano e sulle scelte dell'amministrazione comunale piovono le critiche delle associazioni protestano lo yachting club la lega navale il fisherman club il club nautico che muovono fa notare la lega navale almeno 3.000 persone insomma sono diverse le persone che amano il mare che hanno una piccola barca e che amano così far delle piccole esclusioni ma che hanno bisogno ovviamente delle strutture portuali per coltivare le loro passioni il nuovo cantiere wider alto 24 metri aggiunge il presidente della lega navale bocchini oscurerà il faro alto 21 metri e mezzo e aumenterà il traffico pesante in transito sulla zona turistica i motori e i macchinari non arriveranno con gli elicotteri ovviamente dice bocchini già i mezzi pesanti della nuco promo bastano e avanzano insomma questa è un'altra polemica poi che ogni tanto fa la sua apparizione sui giornali nuove scogliere a metauriglia pronte per la prossima stagione è il risultato di un incontro che c'è stato ieri tra il vice sindaco cristian fanesi e gli operatori del settore concessionari di spiaggia per quanto riguarda questo grande intervento che si sta facendo a metauriglia un intervento considerevole per quanto riguarda un investimento di 4 milioni di euro finanziato a metà dalla regione Marche e metà dalle ferrovie dello Stato i beneficiari comunque saranno anche ovviamente le spiagge che potranno aumentare di metri quadri di estensione perché saranno protette appunto dalle scogliere bisogna anche salpare alcune scogliere che sono troppo vicine alla riva e che quindi non offrono una protezione sufficiente alla forza dei marosi e poi il resto del Carlino pubblica un articolo per quanto riguarda il campetto della discordia e il campetto di fenile il campetto della fenile che è oggetto spesso delle incursioni dei vandali e arriva la polizia questa volta liti continue a fenile sullo sfondo una struttura bersaglio di atti vandalici infine viene segnalato al 113 il presidente dell'oratorio addirittura e qui vediamo una fotografia della rete strappata del campetto di calcio di fenile segno del degrado e ovviamente anche dell'azione dei vandali ci sono dunque dei ragazzacci in questo in questa frazione ragazzacci che creano inutili tensioni tra gli adulti del quartiere infatti all'ombra del campanile della parrocchia dei santi pietro e andrea ci sono vittime di questa piccola banda di teppestelli sono ragazzi ragazzi dili chiamarli ragazzacci probabilmente è un eufemismo sono dei ragazzi che sì sono un po intemperanti dovrebbero essere frenati soprattutto prima di tutto dai genitori e poi anche dai loro insegnanti ebbene occorre rieducarli perché stanno facendo la guerra tra i genitori che si sfidano addirittura carte bollate sabato pomeriggio ad esempio è dovuta intervenire pure la polizia per pacificare gli animi tra chi vuole insomma un po di pace e chi è la responsabilità di contenere le intemperanze dei propri figli ed ora diamo un'occhiata veramente un episodio di cronaca vera e propria nascondeva l'ascis tra le bionde operaio arrestato si tratta di un operaio fanese di 22 anni che è stato individuato dalla polizia mentre scambiava la droga in piazza del popolo nei pressi del flaminio ed è proprio mentre stava consumando l'accessione all'interno di un'auto ferma appunto in piazza che gli uomini del commissariato di fano sono entrati in azione e hanno fatto scattare le manette ai polsi del pusher un ragazzo piuttosto giovane appunto dicevo 22 anni operaio appena aveva appena venduto 10 grammi in cambio di 50 euro noi ostaggi di ragazzini ubriati intervenute e l'appello dei residenti di via nolfi e non è la prima volta che questo accade perché in via nolfi sud c'è un locale che attira molti ragazzi molti ragazzi che però si abbandonano durante le ore notturne a schiamazzi a episodi di ubriachezza molesta qualcuno poi imbratta gli usci le porte delle abitazioni con i suoi liquidi ebbene insomma una situazione ingestibile che ogni tanto sale alla ribalta intervengono gli uomini della polizia locale interviene il commissariato intervengono i carabinieri e fermano un episodio ma poi dopo un po le cose si ripetano noi ostaggi dei ragazzini ubriachi dicono i residenti intervenite altra protesta dei residenti di via nolfi è un punto scuro ogni venerdì e sabato è caos le forze dell'ordine devono risolvere come risolvere occorrerebbe che una persona delle forze dell'ordine fosse sempre presente tutti i fine settimana sul luogo ovviamente questo non è possibile che cosa si può fare è un punto interrogativo a cui si può dare una risposta al momento e veniamo a san lorenzo in campo vi segnalo quest'articolo che costituisce un'azione importante eseguita dal sindaco dell'onti san lorenzo il sindaco ha organizzato due convegni aperti ai genitori per quanto riguarda la qualità del cibo che viene servito nelle mese scolastiche il primo incontro sarà su cibo e salute a partire dalla prima infanzia si tratta di un incontro che verrà organizzato alle ore 21 nella sala consigliare e avrà il titolo appunto quello che ho detto si si tratta di un incontro vediamo un attimo che verrà organizzato adesso non riesco a trovare il giorno probabilmente sarà questa sera immagino invece l'altro incontro seguirà un altro incontro con il tema disturbi del comportamento alimentare la dieta non basta su queste tematiche serve anche istruire ha dichiarato il sindaco comunque invito a leggere questo interessante articolo soprattutto per i genitori di san lorenzo che tengono alla salute dei propri bambini a urbino il gioco dei bimbi come forza verso il futuro da oggi piccoli di trasanni torre montesofio si cimenteranno con go goals lo chiede l'onu go goals incontri gioco sull'agenda onu 2030 un'iniziativa dunque di carattere internazionale e poi andiamo a cantiano a cantiano vediamo come il comune è stato previdente investendo le proprie risorse nel fotovoltaico l'amministrazione comunale investì 11 anni fa quindi veramente in tempi interessanti sull'energia alternativa e fino ad oggi ha incassato 4 milioni e mezzo di euro lordi insomma una risorsa importante abbiamo installato i pannelli solari sui nostri terreni che erano finalizzati all'industria un investimento intelligente previdente e il sindaco ringrazia chi lo ha preceduto ovvero i suoi sindaci predecessori per aver avuto questa giusta intuizione un impianto fotovoltaico comunale casa dei tosi ha compiuto in questo mese 11 anni e sono 11 anni di risorse che sono affluite nel comune di cantiano diamo un'occhiata anche le pagine pesaresi vediamo questo articolo che riguarda un aspetto un servizio molto molto importante che però deve essere ancora realizzato oltre al medico di famiglia c'è proprio una dichiarazione a carattere internazionale e l'organizzazione mondiale della sanità che la raccomanda l'istituzione dell'infermiere di famiglia l'infermiere di famiglia serve proprio adesso è una figura centrale questa per l'assistenza sanitaria soprattutto per quanto riguarda le fasce deboli una mozione in consiglio comunale per strigliare la regione sui tempi dovrebbe essere la regione ovviamente che è competente per il settore della sanità a organizzare questo servizio un infermiere di famiglia per quanto riguarda le prestazioni mediche che servono insomma se non realmente si va dal pronto soccorso difficilmente si va dal medico di base anche se si dovrebbe fare questo questa è la figura che ha un ruolo fondamentale nella medicina del territorio anche per quanto riguarda la recente esperienza del covid già in diverse regioni in Italia è attivo e quindi anche la regione Marche è così stimolata a realizzarlo la lista Forza Pesaro ha firmato una mozione poi è stata approvata alla unanimità nel consiglio comunale di lunedì scorso di Pesaro che sprona appunto la regione Marche a istituire questa nuova figura pronto soccorso ora ci sono i facilitatori chi sono i facilitatori? sono quelle persone che cercano di intrattenere coloro che hanno bisogno delle prestazioni del pronto soccorso che magari sono costretti a osservare delle attese qualche volta anche delle lunghe attese così a passare il tempo ma nel momento insomma da non sentirsi abbandonati e quindi sono persone importanti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico aiutiamo i pazienti in attesa delle visite le nuove figure servono per dare informazioni sostegno di ogni tipo e la gente cosa fa? la gente apprezza il servizio perché si sente meno sola, meno abbandonata spesso si sente sono stato 4-5 ore abbandonato in una sedia nella sala d'aspetto del pronto soccorso nessuno mi ha detto niente invece queste persone sono vicine a queste persone e cercano appunto di aiutarle anche dal punto di vista psicologico ex amga amianto nel sottosuolo verrà rimosso tutto ma per gradi lentamente e ovviamente si dilunga la vicenda la bonifica di questo sito che è ormai in atto da anni i residenti nei giorni prestabiliti dovranno tenere le finestre ben chiuse perché le fibre d'amianto sono molto molto volatile sono molto molto pericolose e non stendere i panni all'aperto è stato rinvenuta la presenza di amianto in due punti del cantiere a circa un paio di metri di profondità e i lavori seppur lentamente ma sono lavori che devono essere fatti con la massima accuratezza procedono ancora altri argomenti vediamo torri al porto ecco perché si indaga la procuratrice è oltre il penale la costruzione dei due edifici cambierebbe forse per sempre una parte significativa della città per la capitaneria di porto l'iter seguito dimostra che l'autorità portuale non diede mai l'autorizzazione insomma è una vicenda che coinvolge anche la giustizia e qui vediamo ecco perché si indaga leggendo questo articolo e veniamo alla cronaca qui è una pagina dove ci sono diverse notizie di cronaca vessata dal figlio l'inferno di un'anziana una spirale di violenze la donna è fuggita in strada per timore di essere malmenata di essere picchiata e chiama i carabinieri sono stati arrestati l'uomo, il figlio 55 anni e la moglie ucraina di 54 anni entrambi tossicodipendenti inveivono spesso contro appunto l'anziana signora una ottantenne pesarese costretta a vivere nel terrore appunto il PM ha ottenuto il divieto di dimora finalmente un po' di pace per questa donna insomma i figli e la moglie sono stati allontanati e poi vediamo un altro articolo a centropagina minaccia il runner con uno scacciacani durante il lockdown 53enne alla sbarra non sopportava che questo uomo che faceva un po' della ginnastica che era permessa durante il periodo del lockdown la facesse in un campo vicino alla sua proprietà non era di sua proprietà era di un'altra e aveva il permesso l'uomo dei proprietari per percorrere quel campo però a questo vicino non gli stava bene per ben due volte lo avrebbe minacciato con una scacciacani ecco perché l'uomo è stato condannato ai lavori socialmente utili ebbene ancora un altro articolo sul resto del Carlino parliamo di asili estivi e sono quelle strutture molto molto necessarie molto gradite soprattutto ai genitori i cui i componenti le famiglie i cui componenti lavorano entrambi marito e moglie che d'estate non sanno come sistemare il proprio bambino ed ecco quindi gli aiuti il comune di Pesa lo stanzia contributi fino a 400 euro per figlio lo vediamo qui in questo articolo i benefici previsti dal comune sono a favore delle famiglie che hanno una ISEE sotto 15.000 euro sono stati aperti 5 nidi per la fascia 0-3 anni aumentate dei 30.000 euro le risorse a sostegno della fascia 6-14 e per quanto riguarda i tempi le domande sono al via per accedere ai fondi entro venerdì prossimo quindi c'è pochissimo ancora pochissimo tempo apriamo ora il corriere adriatico lo vediamo qua sulla pagina di Fano l'apertura dedicata ad un incidente stradale che si è verificato ieri sulla Flaminia un tremendo schianto sulla statale autodistrutte e strati conducenti gravi un ventenne di colli al metauro e una 62enne di lucrezia portati nella notte all'ospedale regionale un pauroso schianto che si è verificato lunedì scorso intorno alle 21.30 i conducenti di due automobili coinvolte sono state trasportate appunto all'ospedale di Torrette di Ancona per un ferito ventenne di origini albanesi residenti a Colli al Metauro è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza invece la donna è stata trasferita in Ancona con un'auto ambulanza del 118 per così ed era meno grave ovviamente per quanto riguarda le operazioni di soccorso comunque la statale si conferma ancora come un'arteria molto molto pericolosa ecco perché lì occorrono degli interventi strutturali per riuscire a ridurre la velocità degli automezzi e poi qui abbiamo un'intera pagina dedicata al Corriere Adriatico addirittura alle risposte per quanto riguarda le dichiarazioni che ha rilasciato l'assessore regionale Stefano Aguzzi per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nella nostra provincia situazione anomala che non si porrebbe in sintonia con le direttive date dalla regione Marche e Aguzzi poi ha fatto anche delle dichiarazioni di ordine politico adebitando la responsabilità di quanto sta avvenendo al Partito Democratico in modo particolare a Renato Claudio Minardi ebbene Minardi oggi replica rifiuti Aguzzi il gattopardo viene definito in gioco sono gli interessi di Fano e poi abbiamo anche una presa di posizione dei socialisti espressa da Tiziano Busca il quale intravede un tentativo per l'alleanza anomala della provincia invece invece un articolo di Spalla riporta una dichiarazione di Uguccioni della lista in comune mai dalla parte della città l'assessore con accento feltresco tifoso della fusione insomma sono prese di posizioni di carattere politico che contrastano appunto le dichiarazioni di Aguzzi qua invece abbiamo un articolo che riguarda la situazione dei permessi di accesso alla ZTL di Fano e c'è un problema da risolvere e molti hanno goduto di un ampliamento di validità del proprio permesso che era in scadenza dal 31 gennaio del 2020 quando è subentrato il lockdown ovvero la diffusione della pandemia in quel caso i permessi sono stati prorogati e sono stati prorogati fino al 31 marzo scorso poi c'è stata la possibilità di usufruire di altri 90 giorni per rinnovarli e 90 giorni scadono alla fine di giugno ora ci sono ancora 800 permessi che devono essere rinnovati e se tutti lo faranno proprio negli ultimi giornati ovviamente l'ufficio viabilità andrà in tilt anche perché ci vogliono 30 giorni per concludere l'operazione di rinnovo e quindi non sarà semplice ecco perché dall'amministrazione comunale sorge l'invito di cominciare proprio adesso e in questi giorni a rinnovare i permessi per poi consentirne di prorogarne la validità a Sant'Ippolito nel segno della solidarietà il patto siglato da tre sindaci si tratta di Castel Sant'Angelo sul Nera per quanto riguarda l'apertura della sala della Madonna del Domo e poi ancora sulla Val Cesano a Mondolfo dove l'orrore ebbe inizio storia da fare conoscere è il rabbino di Mondolfo che è stato insieme a quello di Lakewood una località del New Jersey in visita al campo di concentramento di Dachau un'esperienza drammatica e emozionante che appunto viene riportata nelle pagine del giornale oggi in questo articolo e vediamo anche la pagina di Senigallia SOS erosione tra il molo e la rotonda il mare porta via un metro di spiaggia il comune interviene e programma un intervento urgente di ripascimento e assicura i lavori verranno fatti di notte per non recare disturbo ai primi bagnanti che già fluiscono alle spiagge nelle ore diurne a lanciare l'allarme sono stati gli operatori delle lungomare Marconi che hanno già gli stabilimenti balneari tra il molo e la rotonda appunto e poi vediamo che a giugno è prevista la riapertura della Barbentina entro l'anno l'ok al raddoppio della statale 76 la strada Barbentina è quella che sta dando veramente del filo da torcere anzi la chiusura della strada Barbentina agli automobilisti e camionisti costretti a percorrere vie alternative non facili a percorrersi si tratta delle vie sconnesse tra Fabriano e Sassoferrato entro l'anno potrebbe invece concludersi i lavori di raddoppio lungo la statale 76 con particolare attenzione al viadotto Mariani di Val Treara di Genga dove tra il 2018 e lo scorso ottobre sono stati rinvenuti dieci fosti di cromo veramente pericolosi per la salute apriamo il Corriere Adriatico sulle pagine pesaresi e vediamo come l'argomento è incentrato sulla apertura degli asili estivi il Comune mette a disposizione un fondo per 200 famiglie è stata varata un'operazione di oltre 100.000 euro risorse extra per la fascia di 3-6 anni interventi sono destinati ai servizi educativi stagionali come ottenere i contributi appunto lo spiega il giornale questa mattina si tratta di un importo massimo di 400 euro a bambino consentiranno l'accesso ai 21 centri estivi convenzionati con il Comune quindi anche le famiglie che si trovano in difficoltà possono utilizzare questo servizio le domande per accedere ai contributi devono essere presentate entro venerdì 20 maggio e poi vediamo che subito le iscrizioni hanno subito un aumento per i nidi quasi il 40% in più abbiamo anche la notizia che l'amministrazione porta avanti i progetti di restyling e qui vediamo l'ex discolato che deve diventare un polo per la fascia d'età da 0 a 6 anni quindi una struttura da riqualificare per essere trasformata in asilo foce del foglia via il tappo per colpa dei fondali trappola spingiamo a mano le barche lo dichiarano appunto i diportisti è un grido d'allarme questo che viene lanciato sia al Comune che alla Regione Marche la novità in questo caso è che è stato sottoscritto però un protocollo tra i due enti che prevede la possibilità di utilizzare le risorse dei canoni cioè quello che pagano i diportisti per garantire l'uscita delle barche in sicurezza questi soldi devono essere impiegati appunto per il settore da cui provengono il ritorno delle navette dal mare al San Bartalo AMI e amministrazione comunale ripropongono il servizio destinato a turisti e bagnanti si parte da giugno nei fine settimana per essere intensificato poi nei mesi di luglio e agosto prima di chiudere voglio segnalarvi un altro articolo che riguarda la devastazione di un pullman che portava i tifosi alla partita della VL mi hanno devastato il pullman dice la proprietaria delle autoline altro che disagi per il bus guasto perché poi si erano lamentati perché il bus si è dovuto fermare a metà strada invece è stato veramente danneggiato dai tifosi e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta a questo punto vi auguro una buona giornata noi ci risentiamo domani sempre alle 7 a risentirci buona giornata a Grazie a tutti.